Maurizio Pugliesi, possiamo dire che certi amori non finiscono? Sì, è vero, sono ritornato volentieri quando è venuta fuori questa opportunità, non ho avuto dubbi anche perché con Luca, con tutto lo staff, un po' meno con Riccardo, però lo conoscevo già bene da tanti anni, quindi è stata una scelta facile. Cosa rappresenta per te Pisa? È una domanda banale, ma penso che per uno che ha vissuto da calciatore questa maglia voglia dire qualcosa in più. Sì, non solo da calciatore, quando ero piccolo, come ho sempre detto, venivo a vedere Pisa in curva, poi ho avuto la fortuna di indossarla questa maglia e ora, ripeto, è venuta fuori questa opportunità, credo sia, è un onore per me, ritornare sotto un'altra veste, insomma. Tra l'altro ritrovi un Pisa finalmente in Serie B, è un po' un rimarginare quella ferita della finale di Latina. Sì, davvero, noi quegli anni lì non ci siamo riusciti, però ecco, credo che questa categoria come minimo la merita una piazza come Pisa. E niente, per quanto mi riguarda è chiaro che sono contento perché la Serie B è la Serie B. Senti, parlando del campo, ti trovi a lavorare con un gruppo di portieri tutti giovani, ambiziosi e con ottime qualità. Sì, davvero, sono rimasto perché prima di tutto hanno una dedizione totale, nonostante siano dei giovani. E poi anche sono portieri validi. Ecco, per ora stiamo lavorando bene, ora aspettiamo le partite che contano per vedere anche come ci comporteremo in campo. Un'ultima cosa, se non sbaglio, San Siro fu un teatro per te importante a livello professionale. La Serie A che hai vissuto, hai toccato, hai sfiorato. Adesso il Pisa torna a San Siro dopo 30 anni. Sarà un'emozione anche per te? Sì, ritornarci da allenatore. Io ho avuto la fortuna di andarci da giocatore. Addirittura l'anno di stare dovevo fare l'esordio lì in Serie A, invece poi l'ho fatto l'anno dopo. Però ecco, è uno stadio, lo chiamano il teatro del calcio, quindi credo che fa piacere andarci e essere in campo credo sia ancora meglio.